In frattempo stanno... Apple Forever! Sto cominciando a servire gli iCornet e gli iCaffè Ci tengono con banchi anche i cadetti dell'Apple Store Ma sono 4S queste qui? Si sono i cornetti 4S gli iCornet e 4S Ragazzi, un applauso a chi ci ha dato la donna di Milia Dupato Grazie! Abbiamo fatto un applauso di estima Grazie, buongiorno a tutti perché tutti... Io sono Pottino... Dovete portare la notte? Pottino? Chi è il primo che è arrivato stanotte? Speriamo la carimata alle 5 Qui è il primo dell'attività Alle 5 di Milano di Milano Vi ringraziamo per essere qui per me è un grandissimo piacere essere con voi Adesso ragazzi Adesso ragazzi vi chiedo un po' di collaborazione gentilmente Ho bisogno di contatti Così almeno sappiamo quanti siete Possiamo serviti una colazione Possiamo dedicarci a voi Quindi io sono piccolina, sono bassina E allora chiedo una colazione Possiamo fare delle file di 4 No, così non mi deve... È di 5 Va bene? Sì